Enrico Duranti tornerà in Piazza Duomo a Crema il 1 luglio per un banchetto informativo sulla paradossale situazione degli stoccaggi di gas di Serniano e Ripalta Cremasca, la cui concessione è scaduta da più di un anno e mezzo. L'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico risale per entrambi al 1 gennaio del 97 ed è scaduta 20 anni dopo, il 1 gennaio del 2017. La titolarità è della Stogit, che ha una sede operativa a Crema e a concessione scaduta l'anno scorso, nel mese di maggio, il Ministero dell'Ambiente autorizzava la Stogit ad aumentare la pressione dello stoccaggio di gas grazie al silenzio a senso della regione Lombardia. L'istanza di proroga è stata presentata il 29 gennaio del 2014 e non risulta che sia stata accolta, ma si va avanti lo stesso. A Ripalta Cremasca il gestore dello stoccaggio può causare, secondo il permesso ricevuto dal Ministero dell'Ambiente, una micro sismicità pari alla magnitudo locale 2.1. Arrivati a 2.2 è invece necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari per riportare la magnitudo a valori consentiti. Era il 2012 e lo stesso tipo di permesso veniva rilasciato a tutti gli stoccaggi esistenti in Italia, Bordolano compresa, in virtù del decennale progetto Italia Hub internazionale del gas, tanto criticato da gruppi e associazioni, i quali ora guardano al nuovo governo con preoccupazione. Dopo aver criticato la genericità del contratto di governo sottoscritto da Lega e 5 Stelle e la mancanza di riferimenti precisi alla questione degli stoccaggi, che non creano posti di lavoro e generano profitti e consumo di suolo, le associazioni contrarie alle trivelazioni e al Lab internazionale, per il suo carattere speculativo di compravendita di gas, le associazioni si aspettano una decisione da parte del nuovo governo che riconsideri l'intera questione. I Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico hanno infatti la possibilità di fermare il progetto, non rinnovare le concessioni e porre fine a una strategia che non ha affatto valorizzato il territorio.